investire nello shipping e guardare al futuro questi sono i temi cui oggi vi confronterete in questa importante assemblea a cui sono stato invitato ma a cui non potrò partecipare visto che sarò in questa giornata diretto al porto di ancona per precedenti impegni volevo però lasciare una testimonianza video non solo per la vicinanza al settore marittimo ma per le grandi questioni che in questa giornata dovrete affrontare su cui mi interessa conoscere l'opinione di tutti dalla riforma del sistema portuale quindi il superamento della legge del rio e la sua aggiornamento in relazione anche a quelle che sono state le criticità sollevate dall'unione europea e che tutte le volte ci vengono riportate su qualsiasi tavolo cioè il fatto che nel sistema portuale italiano si abbiano degli enti pubblici non economici e quindi sostanzialmente l'europa dichiari costantemente che il nostro paese utilizza risorse pubbliche per fare una competizione ai porti del nord europa falsata proprio dall'utilizzo delle risorse dello stato al fatto che il nostro sistema logistico debba sempre di più sfruttare quelle che sono le ricchezze vere proprio di un mare che sebbene rappresenta il 3 per cento della superficie acqua terrestre rappresenta ben il 25 per cento del traffico mondiale e che probabilmente nei prossimi anni con lo sviluppo del continente africano questo 25 potrebbe arrivare a essere fino al 35 per cento del traffico globale è chiaro che questo vuol dire potenziare nostre infrastrutture portuali ma anche la capacità intermodale perché non basta scaricare le merci sulle banchine bisogna anche riuscirle a portare nei mercati di destinazione e in quei mercati che invece producono le merci stesse è evidente che questo vuol dire una rivisitazione di un sistema infrastrutturale particolarmente complesso con un sistema di interporti altamente automatizzati e capaci di soddisfare le domande degli operatori ma anche una connettività autostradale stradale ferroviaria che oggi in alcune parti del paese assolutamente deficitarie stiamo puntando quindi al completamento dei grandi corritori europei senza dimenticare però le opere di autonomiglio e in particolare anche la riprogrammazione del pnr perché noi intendiamo e lo dico qua in maniera molto chiara utilizzare fino all'ultimo euro che ci è stato dato siccome si tratta di un investimento che comunque noi dovremo restituire da questo punto di vista abbiamo la necessità che questo finanziamento renda al sistema economico nazionale è evidente che chi riteneva che col me il pnr si potessero fare opere particolarmente importanti di infrastrutturazione diceva il falso perché su uno strumento finanziario con una durata quinquennale è evidente che noi possiamo fare interventi di completamento e di aggiustamento delle grandi direttrici ma non certo imbarcarci su opere che ci vogliono 10 o 20 anni a essere realizzate per questo stiamo riprogrammando alcuni interventi affrontando i temi dell'ultimo miglio i temi dell'elettrificazione delle banchine i temi dell'ambientalizzazione di alcuni processi anche per coordinare sempre di più ad esempio l'attività marittima e industriale con le esigenze delle comunità locali che risiedono intorno alle aree portuali quindi le riqualificazioni degli waterfront il rilancio di uno sviluppo integrato che deve portare insieme la catena logistica ma anche un benessere una sostanziale miglioramento delle qualità di vita delle delle aree interessate agli investimenti su questo il nostro ministero è particolarmente attento lanciando contemporaneamente opere di grande respiro come il ponte sullo stretto che non è un ponte che collega messina alla calabria ma che vuol cambiare il paradigma di percezione del nostro paese a livello mondiale ossia che nel sud italia non si possa investire noi riteniamo invece che non solo si può investire ma che l'industria italiana è in grado di ancora una volta di strabiliare il mondo e di fare cose assolutamente avvienieristiche per quello noi vogliamo opere sfidanti vogliamo dimostrare di essere in grado di fare cose che in passato i nostri progenitori sono stati in grado di fare questo è l'unico modo per mantenere un paese sulla via dello sviluppo dobbiamo essere un elemento essenziale delle politiche economiche mondiali e per far questo dobbiamo utilizzare l'unica capacità che ha il nostro paese l'unica vera materia prima che è che sono le risorse umane la capacità tutta italiana di inventarsi il modo di risolvere situazioni complesse con sistemi assolutamente semplici su questo questa è la nostra sfida anche per efficientare una catena logistica avendo un disegno nazionale sul sistema portuale ma garantendo anche quelle economie a livello locale che consentano ai nostri porti di vide di vivere all'interno di aree densamente urbanizzate su questo credo che il confronto debba essere acceso così come deve essere acceso il confronto su come andare domani a regolare i canoni i peff dei canoni concessori a livello portuale omeogenizzando una situazione a livello nazionale che spesso è parcellizzata ma creando anche differenze tra scalo a scalo in funzione della strategicità del porto stesso e dell'ensità dell'area è difficile riuscire a far tutto questo senza una condivisione da parte dell'intero cluster per rilanciare il sistema nel suo complesso in cui tutti si devono sentire protagonisti di una trasformazione e consentire al nostro paese di non subire le trasformazioni dell'economia mondiale ma di poterle cavalcare questa è la grande scommessa che il nostro paese è disposto a correre e chiediamo a tutti nei prossimi mesi di poter condividere insieme degli obiettivi e di trovare delle situazioni e dei problemi che l'italia si sta trascinando sul settore marittimo da alcuni decenni e che oggi forse è il caso di iniziare ad affrontare